buongiornissimo a tutti è appena uscita una foto molto importante sul mio profilo andate tutti a vederla e mi raccomando lasciate un like e commentate leggo tutti i vostri commenti nella mia ultima foto vi svelo anche un progetto che andrò a fare nei prossimi giorni a sanremo durante il pre sanremo con l'ancome dai io sono contentissima siamo arrivati sanremo stiamo arrivando io e linda staremo sotto il banco siamo arrivati guardate che bello no